La bellezza del nostro calcio e di chi lo commenta. Ho sbagliato anch'io certe volte, sia chiaro, magari sono caduto anch'io nella grande trappola, nel grande tranello, che è quello di considerare un allenatore finito o incapace o perché fa quel mestiere lì, se la squadra sbaglia due o tre partite, fenomeno fantastico, portatore di nuove idee, meraviglioso, se vince tre o quattro partite di fila. Non c'è mai l'equilibrio giusto. Per tutti vale, ragazzi, per tutti, per tutti. Guardate Gattuso a Napoli, Fonseca alla Roma, tanti, tanti, tutti finiscono in questa pseudogogna dal risvolto positivo dal risvolto negativo, in questa schizofrenia del giudizio, no? Allora, all'inizio Pirlo era il... si parlava di Pirlolandia, il grande teorico del nuovo calcio o il nuovo grande teorico di calcio. Poi la Juve va male, ah Pirlo, ma cosa si mette a fare l'allenatore? Perché fa l'allenatore di calcio? Non dovrebbe farlo, dovrebbe partire dalla gavetta perché è già in Serie A e si capisce, si vede che non studia, che non sa, che non riesce a... no, che non sa, che non sa applicare da allenatore perché ragiona ancora da calciatore. Adesso arrivano cinque vittorie consecutive, sette nelle ultime otto partite, considerando la sconfitta, l'unica sconfitta quella con l'Inter in campionato e adesso Pirlo è di nuovo considerato il maestro, lo stratega. Ragazzi, ci vuole un po' di equilibrio perché ognuno, per esempio, ha i suoi tempi e Pirlo evidentemente aveva bisogno di un po' di tempo per lavorare sul campo non avendo potuto lavorare in estate, perché in estate non è stato possibile lavorare per nessuno. Cosa ha fatto di particolare, per esempio, a San Siro? L'ho trovato su OneFootball, un'analisi tattica della partita della Juventus, ha bloccato il Brozovic, praticamente, ha impedito che il gioco dell'Inter passasse attraverso Brozovic. Poi si fa riferimento al fatto che ha bloccato, o quantomeno limitato moltissimo, gli inserimenti dei centrocampisti nerazzurri, gli inserimenti in aria. Non tantissimo perché, insomma, qualche inserimento si è visto, vedasi ad esempio quello di Darmian in occasione della grande parata che ha fatto Buffon, che va a riscattare quella incertezza in occasione del gol di Lautaro. Un altro paio di situazioni pericolose la Juve le ha vissute, sicuramente. Però poi io vado a vedere il tabellino, perché adesso sento dire, ma l'ho detto anche Antonio Conte, possiamo tranquillamente citare, che praticamente l'Inter si è fatta i gol da sola e che praticamente non meritava di perdere. Allora, sul fatto che non meritasse di perdere siamo perfettamente d'accordo. Vi porto il tabellino. 11 tiri dell'Inter, 10 della Juventus, 6 tiri in porta della Juventus, 5 dell'Inter, 52 possesso palla della Juventus, 48 dell'Inter, 6 ammoniti da Juventus, 3 dell'Inter. Questo è un altro risulto. Ma mi sembra una partita sostanzialmente in equilibrio. Poi, allora, il gol della Juve arriva su rigore? C'è! Ragazzi, basta scomodare le leggi della fisica, siete ridicoli, dai! Su! È trattenuto per tre secondi, cerca di andare avanti, viene mollato, cade in avanti, non deve cadere all'indietro. Se tu per tre secondi trattieni uno che sta correndo e poi lo molli, questo casca in avanti, non casca all'indietro. Su! Dai! Non diciamo bagianate, per non usare altri termini. Non alimentiamo polemiche per il gusto di farlo e perché c'è un po' di bava, di rabbia alla bocca. Su! Per favore! Allora, il rigore c'è. Poi, tra l'altro, il VAR è stato voluto per questo. Il VAR è stato voluto per questo, per andare a vedere i casi in cui l'arbitro non riesce a vedere perché l'arbitro era impallato dall'azione. Ok, va bene. Quindi, non penso che sia un gol che l'Inter si è fatta da sola. Ha commesso un fallo da rigore e il rigore è stato visto attraverso il VAR assegnato e trasformato da Cristiano Ronaldo. Poi è vero che Cristiano Ronaldo approfitta della papera, la chiamiamo così, della disattenzione, del pasticcio che combinano bastoni e Andanovic. È lestissimo, firma un gol che non è per niente facile perché da quella posizione tira di getto. Ok, tira di getto. Era l'unico modo per prendere la porta. Ok, la prende col palo interno, quindi anche una buona dose di fortuna in questo caso perché dipende da come gira il pallone. I palloni girano sempre, le palle girano sempre. Però, a un certo punto, prende un giro diverso. A volte girano in un senso, a volte girano in un'altra, ma è la loro natura. E quindi gira praticamente in un senso, poi vicino alla porta cambia il giro del pallone e prende il palo interno. Se avesse seguito la logica dei giri fino ad un metro e mezzo dalla porta sarebbe stato palo esterno o faro centrale e Andanovic si ritrovava la palla in mano. Vedete a volte come va, come gira il mondo, no? Come gira il pallone e come gira il mondo. Quindi è vero, in questo caso sì, l'Inter ha combinato il pasticcio. Ma parliamo anche di cosa ha fatto Buffon sul gol di Lautaro. Voi sapete l'amicizia che mi lega, o comunque la grande stima che mi lega e la conoscenza che mi lega a Gigi Buffon, ma ho ammesso chiaramente che ci ha messo del suo in quel gol. Il tiro era centrale, lo tocca ma gli scappa. Cioè, la sensazione mia è stata questa, sia chiaro. Poi Buffon ha fatto una parata straordinaria sull'Armian. Non mi si dica che D'Armian gli ha tirato addosso, perché Buffon alza il braccio per pararla con la palla. Quindi non è D'Armian che ha tirato. D'Armian tira giusto, la alza, Buffon allarga il braccione sinistro e la prende. Quindi è una gran parata, non è un tiro sbagliato da D'Armian questo. Però, allora anche lì la Juve in un certo senso si è fatta gol da sola. Se la vogliamo mettere su questo piano è stata una serie di errori. L'Inter avrebbe potuto pareggiare, meritando il pareggio nel secondo tempo, quando, quando ragazzi, oltre all'occasione di D'Armian, quando Bentancur in quella palla in uscita la stoppa male, o meglio, non si accorge dell'arrivo di un giocatore dell'Inter e la palla arriva a Sanchez. Se l'Inter avesse segnato in quell'occasione si sarebbe potuto tranquillamente dire che la Juve si era fatta gol da sola. Allo stesso modo. Quindi è una lettura della partita che non mi trova d'accordo, ripeto. Poi, che l'Inter avrebbe sicuramente meritato di vincere, di pareggiare, siamo tutti d'accordo per la molle di gioco prodotta nel secondo tempo. Siamo perfettamente d'accordo. L'occasione di D'Armian, il tiro di Lautaro che spiora l'incrocio dei pali, la girata di Barella, sicuramente, sicuramente il tiro respinto sulla linea da Demiral quando appunto Bentancur sbaglia. Su questo siamo perfettamente d'accordo, non c'è nulla da obiettare. La Juve nel secondo tempo ha tirato una volta sola, praticamente, con Bernardeschi il tiro deviato che Andalovic ha messo in angolo. Quindi, siamo d'accordo. Però non mi si dica che l'Inter si è fatta i gol da sola. No, anche la Juve si è fatta praticamente un gol da sola e stava per farsi il secondo gol da sola. Quindi, siamo in una situazione di perfetto equilibrio nel quale la differenza l'ha fatta una palla deviata da Demiral. E' una gran parata di Buffon. E' una gran parata di Andalovic anche, ragazzi, perché comunque il tiro in porta di Bernardeschi deviato. Andalovic è andato a prenderla a fil di palo e l'ha messa in calcio da. Penso di essere stato abbastanza chiaro in tutto questo. Di cosa parliamo? Basta. Sto anche andando oltre il tempo consentito. No, parliamo del fatto che nessuno si illuda alla Juventus che il più è fatto, neanche il più è fatto. È una posizione di privilegio aver vinto in trasferta. Ma attenzione perché l'Inter è vero che non avrà Vidal nella gara di ritorno, ma riprenderanno in campo Lukaku e Hakimi. Lukaku e Hakimi. Sempre che la procura federale, che è stata investita nel caso Lukaku-Ibrahimovic, non prenda dei provvedimenti ulteriori nei confronti dei due giocatori, ammesso che la prima per i due giocatori. Però escludiamo per il momento questa ipotesi, l'Inter avrà Lukaku e Hakimi. Sarà un'Inter molto diversa perché i dati dimostrano che senza Lukaku l'Inter non ha mai vinto. Quest'anno se non vado errato, se non vado errato. Quindi attenzione, nessuno nel mondo bianconero si illuda che la Juventus sia già in finale, perché non è assolutamente così. Testa a Juve-Roma di sabato, c'è ancora un po' di tempo, siamo a mercoledì, affronteremo a tempo debito il discorso. Iscrivetevi al canale. Ciao!